Manifestate Euralumina Manifestate Euralumina Manifestate Euralumina Manifestate Euralumina Manifestate Euralumina e scarabineri di Carbonia, può agattare a sottori di questo intento. Pani e Ollo in Sumolino. Sabato 26 e domenico 27, in Sant'Adi, è in programma di 26 edizioni di Pani e Ollo in Sumolino. In mezzo di questa contestazione, da me e da dentro questo incontro, dove è l'avventura sabato e noi ora è mezzo di ammigiano di questa doma antica. In Tammesichi, domenico, in Prazza Marconi, dove è adesso, comincio del suo mercato, di sprodotto su agroalimentarisi e artesanalisi. Paschi c'è nel cannazza del Giosso. Giovia 8, in su mese idasa, in noi ora è mezzo, è in Cingiai, sabiti c'è da dei babbo natali, in suo parco urbano, sa grutta, in cannazza del Giosso, è in Pipiuso, è in Pota, toviai a babbo natali e anche in Buccai, in litra, sa che d'antiscritto. Sabiti c'è da parrai dei noi ora è mezzo a mezzo di, è mezzo e dei tre se mezzo ai sezze mesi, sia da sotto, da su mese idasa, sia dei domenicos, da su 11 e da su 28, sempre da su mese idasa. Sa contesi d'era concordata, sa sozio Strum Truppen, con su patrozzino, da su comuno di Garbonia e da su cooperativa mediterranea. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.